Ciao ragazzi, benvenuti su Castiubedrums, come potete vedere oggi sono in compagnia, anzi io e Leo siamo in compagnia di strumentimusicali.net Leo si sta facendo il bagno, ma vabbè, potevi lavarti un'altra volta? Comunque, dentro questo pacco, come avete visto dal titolo, ci sono un bel po' di regali, un bel po' di idee, soprattutto molto interessanti per i batteristi, quindi il periodo è quello giusto, ma comunque possono funzionare questi regali per qualsiasi periodo, quindi adesso vado a prendere il pacco, faccio scendere il gatto, facciamolo subito, mi spiace, dovresti scendere, vai? Quindi, eccomi qua, prendo il mio taglierino e andiamo a spacchettare e vedere che cosa c'è, vedere subito che cosa c'è, allora. Quindi, allora, c'è un bel po' di roba, il pacco non è enorme, ma c'è un bel po' di roba. Questo ve lo faccio vedere dopo, per forza. Allora, ecco, partiamo di qua, poi dopo andiamo alla batteria. Ah, ecco, vi faccio vedere due cosine, piccole, ma caratteristiche, come diceva. E allora, prima cosa, ragazzi, questa qua, la chiavetta della Sonor Pro Team. Questa chiavetta qua, che è una figata, è praticamente la chiavetta di Gavin Harrison. In pratica, la cosa di questa chiavetta è che è una chiavetta normalissima, ma qua sopra ha questa gomma arancione che fa molto attrito, quindi ci permette di andare ad avvitare bene con le mani e soprattutto in modo semplice, con le mani, le nostre chiavette. Gavin Harrison, infatti, le usa moltissimo per accordare la sua batteria prima con le mani, facendo, appunto, grazie a questa gomma, molta pressione e poi andando ad utilizzare la chiavetta. Secondo me questa è molto, 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 molto utile. Quindi, chiavetta di Gavin Harrison e altra cosa molto utile, un po' diversa. Più che altro come regalo, secondo me, è una bomba questa cosa qua. Bacchetta, che sembra una bacchetta normale, ma di qua è un cavatappi. Questa non l'avevo mai vista. È della Minol, questa chiavetta cavatappi qua. Molto, molto carina, più che altro perché, boh, la mettete in cucina, che cavolo ne so, e la appendete e sta lì e avete una bacchetta molto bella questa. Quindi queste sono le prime due idee, i primi due regalini piccoli. Andando un pochettino più su di fascia, dobbiamo spostarci alla batteria. Ci siamo quindi spostati alla batteria e per tutte le prove che voglio fare oggi prendo da questo paccone qua due cose. Cioè, per provare le cose, i regali che andrò a farvi vedere, voglio usare queste due bacchette di Casa Vetter. E cioè, sto parlando di bacchette Signature. Non vuol dire bacchette Signature. Bacchette Signature sono le bacchette di un batterista famoso. Ho preso due batteristi molto, 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 molto famosi e voglio andare a provare le loro bacchette. Per prima cosa partiamo dall'Italia, in realtà non è vero, partiamo dalla Svizzera, e cioè Christian Meyer. Tutti conosceranno Christian Meyer. Queste qua sono le sue bacchette, le Live Club Model. Spero che metta a fuoco, anche se non lo so. E allora, queste bacchette qua, da prendere in mano, sono molto, molto, molto leggere. Mi sembrano abbastanza media lunghezza, molto, molto, molto leggere. Proviamo a sentire come si suona, qual è la sensazione. Allora, la sensazione è completamente diversa rispetto a quello che sembra quando si prendono in mano. Perché io le ho prese, ho detto, molto leggere, forse troppo leggere per me, un po' piccole per me. Poi, nel momento in cui sono andato a suonare, sembrano molto più pesanti di quello che sono. Perché il controllo, il bilanciamento, è veramente, veramente ottimo di queste bacchette. Veramente ottime bacchette. Ottime bacchette, poi, più che altro, avendo anche la punta ad oliva, in questo modo, sui piatti, il suono. Risulta molto, molto, molto meglio, perché appunto con la punta ad oliva è un po' più figo. Le altre bacchette che ho sono queste qua, sono giusto un filino più pesanti, anche già solo da prendere in mano, e sono le Mike Mangini. Queste bacchette sono completamente il contrario rispetto a prima. Prima erano leggere, piccoline. Queste sono delle due B, se non più grandi, di Mike Mangini. Eccole qua. Come potete vedere, la punta qua, praticamente, è quasi come se non ci fosse, perché la bacchetta va e poi continua, quasi come se non ci fosse la punta. Proviamole. Ammazza, allora, non so come faccia. Ho provato, alla fine, ad andare un po' più veloce, perché non so come faccia Mangini, con queste bacchette qua, di queste dimensioni, di questo peso, ad andare così veloce. In realtà, poi, quando si va veloce, ce la si fa, però comunque... Allora, queste bacchette mi piacciono molto, hanno molta potenza come bacchette, però tranquillo. Lui le usa ad andare velocissimo. Va boh, ce la fa lui. Io non ho neanche un centesimo della sua velocità. Buone bacchette. Tra le due preferisco quelle di Christian Meyer. Quindi continuerò ad usare queste qui. E vi voglio far vedere... Prendo... Che... Strappo. E cioè, questo è una sordina... Questa è femminile. È una sordina della Dixon. Questa qua è una sordina da rullante, un po' vecchio stile, diciamo, che secondo me, però, funziona da paura. Perché, mo' vi spiego. Questa va applicata, va avvitata al rullante in questo modo qua. Quindi voi andate, avvitate al rullante questa sordina, l'avvitate bene e lei sta lì. Prima, ovviamente, devo farvi sentire il suono senza sordina, però... Quindi togliamo la sordina, appoggiamola qua. Il mio rullante senza sordina suona in questo modo. Andiamo a mettergli la sordina. Il mio rullante, in realtà, è già un pochettino sordinato per la pelle che ha. Però voglio andare a vedere, con la sordina, quanto cambia il suono. E effettivamente diventa tutto molto più nitido. Sentite le ghost. Sono, effettivamente, sono molto più nitide. Ottimo regalo questo, raga. Ottimo regalo. Mi sa che me lo tengo questo, perché, comunque, è molto carino. Andiamo avanti. Allora, vediamo un po' che cosa c'è qua. Ah, ecco. Continuiamo a parlare di sordine. Oh, qui se ne è andata la scritta. Vabbè, ma pazienza. Ah, se ne va, perché se io gli... Ah, l'ho fatta andare via io, la scritta, perché probabilmente ci ho passato il dito sopra, ho visto che va via, ma non fa niente, perché tanto molto probabilmente queste le conoscerete già, perché sono super famose, ma sono super famose perché vanno bene. Queste sono le Moon Gel, cioè, in realtà, non so se si chiamino proprio Moon Gel, ma sono le sordine di R. Tom, non so come si dica, ma comunque, tanto io non lo so dire in qualsiasi caso, quindi poco cambia. Allora, queste sono le sordine col colore più bello del mondo. Io, da quando avevo 13 anni e ho cominciato a suonare, ho visto queste sordine qua, guardate che colore hanno, sono veramente fighissime e, in pratica, sono sei, tra l'altro, ai tempi mi sembra ne mettessero solo quattro. E prendete la sordina, semplicissimo, e andate a posizionarla su ogni Tom. Poi lei si attacca perché è una gelatina, è lavabile, tra l'altro, quindi quando non attacca più, voi la lavate e poi riattacca di nuovo come prima, come fosse nuova. Potete metterle sui Tom, potete metterle sul rullante, ma ho già questa cosa qua. Potete andare a metterla anche sulla cassa, perché tanto è una gelatina che tiene un sacco, quindi non c'è problema. C'è la sua scatolina apposita per non farle sporcare e, in più, volendo, potete anche tagliare la metà e sordinare un po' meno con, appunto, mezza gelatina. Mi dimentico sempre di fare il suono prima delle sordine. Sentiamo un po'? Yes, raga, ho tutto molto sordinato adesso ed è una figata in realtà. Sentite il timpano. Cioè è super nitido proprio quello che vado a suonare, si sentono... Tutti i colpi, perfettamente, e devo dire che sia live, sia in studio, comunque sordinare la batteria in questo modo potrebbe aiutare un sacco. Trovate tutto in descrizione, ovviamente. Questo non ve l'ho detto. Ah, ragazzi, è arrivato il momento, perché adesso, non so se ve l'ho detto o non ve l'ho detto, ma non fa niente. C'è una sorpresa, una sorpresa che non vi aspettate. Io, in realtà, ho già dato una sbirciata, devo ammettere, scusate, ma ero troppo curioso, perché c'è un piatto qui. Però, guardate cosa c'è scritto. Perché questo non è un piatto normale, questo è un piatto molto particolare. È figo, l'ho già visto. L'ho guardato, raga, scusate, perché ero troppo curioso. Ero troppo curioso ed è una bomba. Che figata questa cosa. Cioè, non ci credo quando lo vedo. È veramente come regalo, secondo me, per un batterista. È veramente una bomba. Guardate qua. L'orologio Zildian, da 13 pollici. Zildian, Zildian, non so mai come si dica. Scrivetemi qui sotto nei commenti come si dice. E scrivetemi anche qui sotto nei commenti un regalo che vi piacerebbe ricevere da batterista. Orologio Zildian, Zildian, G qualcosa, da 13 pollici, quindi piccolino. Io quando l'ho visto all'inizio pensavo fosse enorme. L'ho visto sul sito e ho detto, va, sarà enorme, troppo grande. In realtà da 13 pollici è perfetto. Beh, è un po' più piccolo di un Charleston, quindi sta ovunque, non pesa troppo. Poi in realtà è bello spesso perché è anche bello potente come piatto. Per così almeno non ha nessun tipo di problema, è bello resistente ed è giusto che sia così. Sì, ovviamente perfettamente funzionante, gli manca una pila, funziona con una pila, ma devo dire che in uno studio, in casa, da qualche parte, un orologio così è una chicca, è una chicca. Questo è un regalo che è qualcosa di più di un regalo, secondo me. Non è un regalo e basta che gli dico, boh, ti compro un qualcosa. No, questo è un regalo sentito, quindi se avete un regalo da fare un po' importante a un batterista, fatelo questo perché secondo me potrebbe essere apprezzato, molto apprezzato. Quindi vabbè, questo non si suonava, riposiamolo lì. Adesso, parlando di piatti, questo qua ragazzi, questo qua è un piatto che voglio provare da una vita. Questo è un piatto perfetto per Natale perché può essere anche usato come albero di Natale, guardate che bello. E in realtà però è molto meglio se lo si usa da piatto perché ha due possibilità. Questo è l'FX Spiral Stack di Ziljan, sempre Ziljan, quella marca lì. E voglio provarlo da una vita, raga, non ce l'ho mai avuto. Lo voglio provare da una vita e per prima cosa posso andare a svitare il mio crash qualsiasi e semplicemente appoggiarglielo sopra. A parte che già si sente che è figo perché... Viene la pelle d'oca quando sento questi suoni. Ah, che bello! Quando sento questi suoni... Quando sento questi suoni qua mi viene subito da fare una ballad. Ma in realtà questo può essere usato anche... E oltre a posizionarlo così ovviamente possiamo andare anche a suonarlo tipo albero di Natale. Vi faccio vedere, però devo togliere il piatto. Raga, guardate che figata. Ho dovuto montare in un modo un po' più strano, cioè dall'alto verso il basso la mia asta. Però... È figo, eh? Molto 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 interessante questo piatto perché appunto sembra un piatto completamente diverso ma è sempre lo stesso di prima, solo che prima era su un altro piatto e adesso è da solo. Molto molto interessante. Lo lascio così e... Vediamo un po'. Pad Zildian. Ho questo problema che non so come si dice e ditemelo perché ho preso tutto della Zildian. Diero Zildian comunque. Allora, pad della Zildian. Ho voluto portarvi un pad perché per prima cosa un pad è sempre utile. Questa scatola dove la metto? Là. Questo, ecco, ho voluto portarlo perché secondo me un pad deve avere alcune caratteristiche. Per prima cosa, questo pad qui ha una caratteristica visiva che secondo me è una bomba. È fighissimo perché è tutto colorato. Quindi già andarci a studiare sopra diventa molto più divertente perché non abbiamo i soliti pad grigi, neri che ci fanno passare la voglia di suonare ma con questo qua è un bilancio un po' diverso. Quindi il pad secondo me, questa caratteristica deve averla, è un pad abbastanza duro. Però in realtà è duro ma come sensazione non è niente male. Proviamo anche la sinistra che è sempre morta. Brava Zildian perché è un bel pad. Più che altro, altra cosa super interessante di questo pad è la dimensione. Non prendiamo, cioè prendiamoli, ma non prendiamo per forza un pad grosso così. Perché poi quando andiamo a studiare possiamo suonare in qualsiasi posto del pad e quello suona sempre. Invece qua abbiamo una superficie ridotta su cui andare a suonare. Quindi se riusciamo a suonare sempre bene in mezzo, se riusciamo almeno sempre a prendere questo pad. Quando andremo sulla batteria in cui i tom sono sempre molto più grandi rispetto a questo pad, saremo molto più precisi e andremo a suonare in centro. Quindi pad Zildian. Trovate sempre tutto in descrizione, tranquilli. Quindi, ultima cosa, prendo di là perché ho spostato ovviamente la cosa di là. Eccolo qui! Ultimo regalo che vi voglio far vedere oggi è... Questo è veramente un ottimo regalo, tra l'altro. Da fare a chi volete, anche a voi stessi. Perché, allora, questo è un metronomo che vibra. Della SoundBrenner, giusto? Sì? E l'ho sempre visto, ma non l'ho mai provato. Quindi sono abbastanza curioso di provar... Ho rischiato, ma non mi è caduto. Ah, si è acceso anche, tra l'altro, già. Probabilmente perché ho schiacciato qui sopra. Allora, troviamo questo che è il metronomo con un cinturino enorme. Perché? Ah, no, ho capito. Perché c'è un altro cinturino. Questo è quello da polso, mentre questo è quello da braccio. Quindi, se volete, ci sta anche sul braccio e potete suonare in questo modo. Io adesso gli cambio il cinturino e metto quello da polso. Tra l'altro è super semplice cambiare il cinturino. Di questo qua, oggi vi faccio vedere, ve ne faccio vedere uno, è partito il metronomo. Ah, doppio tap e si stacca. Questo è molto, molto figo perché tac, tac e stoppiamo il metronomo. Vediamo come funziona. Di questi qua ce ne sono un po' di tipi. Io oggi ho deciso di portarvi quello, tra virgolette, più economico. Quindi quello più semplice di tutti. Ma ce ne sono di tanti tipi. Quindi scrivetemi qui sotto nei commenti, se volete che vi faccia un video dedicato a questo, dove vi spiego tutto, perché ci sono anche alcuni modelli con le app che si integrano eccetera eccetera, hanno prezzi diversi. Quindi, secondo me, potrebbe essere figo. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Io intanto vi metto questo orologio, che in realtà è un metronomo, e vediamo come funziona. Quindi, acceso il mio metronomo, vibra un po', mi dice che è pronto, probabilmente. Quindi, se io faccio doppio tap, ve lo faccio sentire dal mio microfono qua. Sentite che mi dà una pulsazione. E lui continua. Tra l'altro io posso anche dargli il tap tempo, quindi, aspetta, doppio tap, e si stoppa. E lui capisce il tap tempo. Sono andato piano all'inizio, non so perché, poi sono velocizzato, ma lui mi sta tenendo questo tap. Invece, se io faccio... Sentite? Quindi, se io ad esempio sono a un concerto e voglio suonare Bec in Black, no? Me la canto prima e mi do il metronomo da solo. Quindi... E lo sento così. Secondo me, a polso funziona molto bene, qua funziona, di brutto qui. Perché mi sembra più sensibile. Poi qua il polso si muove tanto. Quindi, si rischia ogni tanto di non sentirlo perfettamente. Ma qua, secondo me, potrebbe essere una figata. Quindi, questo è un ottimo, un ottimo, un ottimo, un ottimo regalo. Veramente figo. Brava Soundbrenner, perché... Spegniti però adesso. Ok, perfetto. Doppio tap, basta, alla fine. E perché, appunto, l'ho sempre visto, ma ero curioso. Fatemi sapere se volete che vi faccia l'altro video, perché secondo me potrebbe essere interessante. Quindi, ragazzi, abbiamo finito questi regali, vi ho dato un po' di idee per, appunto, questo periodo che, dato che stiamo andando verso un periodo che i regali si fanno, ma in realtà queste cose, sia strumenti, orologi, pad, metronomi, cavatappi, tutto, chiavette, si possono regalare tutto l'anno. Quindi, se volete farvi un regalo, se volete fare a qualcuno un regalo, secondo me, qua, cascate bene. Qualsiasi cosa prendiate e cascate bene. Ovviamente tutto dipende molto dal vostro budget, però qua ne avete veramente per tutti i gusti. Avete tutti i link qui sotto in descrizione di tutti quanti i regali, quindi direi che ci siamo. Voglio ringraziare ancora strumentimusicali.net per avermi mandato tutta questa roba. Grazie mille. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Grazie mille.